Il Movimento 5 Stelle invece rilancia con un appello sfida Forza Italia, SEL, Lega e Fratelli d'Italia a dimettersi. Noi siamo pronti a farlo, assicura Alessandro Di Battista, per far cadere il Parlamento e andare alle urne, ma siamo certi che le altre opposizioni non lo faranno, sono attaccate alle poltrone. Siamo orgogliosi di fare casino contro un governo che mentre si suicidano gli imprenditori, io prima parlavo con un piccolo imprenditore che mi diceva che era la canna del gas, mentre si suicidano le persone in questo paese, sta parlando da sei mesi di soglie di sbarramento, poltrone al Senato, poltrone alla Camera e poltrone nei consigli regionali. Questa è una riforma che non serve a niente.